Allora è chiaro che la tua uscita Nicoletta finale ha un po' forse sorpreso tutti e al tempo stesso ci fa capire come in effetti la vita sia difficile in generale, quindi riuscire a trovare le risorse è sicuramente un valore aggiunto non indifferente, per cui questa cosa senz'altro ti rende ancora più forte e al tempo stesso rende anche noi più consapevoli che dietro a questo corso c'è la serietà se mai qualcuno avesse avuto dei dubbi nella fase iniziale. Concordo con Veronica su questa cosa e anche sul fatto che le tue collaboratrici sono sicuramente persone squisite e molto disponibili e gentili da questo punto di vista. La cosa bella che mi ha fatto veramente piacere è che mi sono sentito in un contesto sereno, quasi familiare. Perché uscire dalla zona di comfort non è mai facile e quindi mettersi in gioco è complicato. Nel momento stesso in cui l'abbiamo fatto, perché tutti l'abbiamo fatto soprattutto nelle stanze che sono magari ambienti un po' più riservati, ha consentito sicuramente di poter analizzare meglio quello che tu ci hai fornito e al tempo stesso poterlo anche assimilare. Sapere che comunque non finisce qui ma c'è la possibilità di un supporto è ulteriore garanzia che effettivamente questo corso è sicuramente un qualcosa che va fatto. È un investimento su se stessi che può consentire veramente un punto di svolta e male non fa.